Siamo ad Assisi per un convegno che ha incentrato la sua attenzione sulle differenze di genere nel trattamento delle patologie oncologiche con un'attenzione particolare alle persone transgender e in generale alla comunità LGBT. Noi ne parliamo col dottor Alberto Giovanni Leone che abbiamo incontrato proprio qui a margine del convegno organizzato molto bene dall'IOM, dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Dottor Leone quali sono le specificità che caratterizzano la comunità LGBT nei confronti del cancro, della sua insorgenza e delle sue cure? Allora abbiamo recentemente svolto una ricerca che si è focalizzata sull'oncologia declinata nelle differenze di identità di genere per cui le posso rispondere alla domanda essenzialmente sull'identità di genere. Abbiamo visto come per prima cosa l'elemento fondamentale è la scarsità di dati sia per quanto riguarda l'epidemiologia, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. Ciò che è uscito dalla nostra ricerca è che vi è una tendenza ad una maggiore incidenza in taluni tipi di cancro, questo può essere correlato ad una terapia ormonale e a fattore di rischio modificabile. Dottore ma il nostro paese è pronto ad affrontarle queste differenze e quali sono le eventuali distanze ancora da colmare? Bene, questo ringrazio per la domanda. Abbiamo notato come nel nostro paese la legislazione non è al passo con i tempi per quanto riguarda sempre le persone transgender in quanto tali persone per definirsi tali anche di fronte alla legge, di fronte alle istituzioni devono per forza di cose intraprendere un percorso di terapia quantomeno ormonale grazie ad una sentenza poi del 2015 non sono più obbligate invece ad una terapia chirurgica ma la sterilizzazione, anche la sola semplice sterilizzazione che ovviamente semplice non è, è ovviamente una manovra, una procedura invasiva che riteniamo del tutto inammissibile per definirsi come tale. Quello che vorrei veramente sottolineare è che dobbiamo assolutamente da domani cominciare a raccogliere dati su orientamento sessuale ed identità di genere nei nostri pazienti, nelle cartelle cliniche, questo per far sì che vi siano degli studi prospettici tali da raccogliere informazioni certe riguardo sia l'epidemiologia sia la prevenzione, sia ovviamente la prevenzione terziaria e quindi l'efficacia dei nostri trattamenti in questi individui.